Voi sapete che cos'è il Circeo, se lo conoscete, si tratta di una montagna dove ancora ci sono così tutte le presenze archeologiche, botaniche, che vanno dal Mirto, dal Timo, dai Ginepri, non si sa più le eriche, ginestre alte 12 metri eccetera. In questo luogo, in questo asilo veramente ci si sente riportare a un senso della natura, pagano proprio, perché si ripossiede la natura in un modo che è davvero sconosciuto, è difficile trovare un luogo di questa bellezza.